Va ora in onda al culto evangelico della Chiesa Valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla predicatrice locale Sandra Rizzi. Sorelle e fratelli, benvenuti a questo nostro culto, consapevoli che laddove due o tre sono riuniti nel suo nome il Signore è lì con loro. Vogliamo allora invocare la sua presenza qui in mezzo a noi con le parole del Salmo 25, due versetti 8 e 10. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori, guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Vogliamo pregare. Signore, che sei lo stesso oggi come ieri e sempre, non immobile e immutabile, ma vivo e fedele. Noi ti ringraziamo per poterci ancora riunire davanti a te e ti chiediamo liberaci da ogni senso di abitudine. Aprici alla novità, sempre fresca, della tua presenza. Con te nulla è risaputo, nulla è scontato. Grazie per la tua presenza costante sui sentieri che tu hai tracciati per noi. Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria, nelle dei secoli noi celebriamo la vittoria. Lode all'Altissimo, lode all'Altissimo, Lode all'Altissimo, lode all'Altissimo, lode all'Altissimo, nel nel mezzo creato. Sovra i dati la salvi noi tutti apportati, bene sostegno, poiché ad ognuno conviene di camminare col suo aiuto. L'odio all'artissimo re della grazia infinita, tutto è di donarci forza, benessere e vita. Non è dolore, non ci abbandona il Signore, che il mondo in Cristo ha salvato. Prima della lettura biblica vogliamo riunirci in preghiera. Signore aiutaci a capire, ferma i nostri pensieri e i nostri gesti, fa che le Tue parole si scolpiscano anche nei nostri cuori. Facci diventare artefici del Tuo disegno secondo il Tuo volere. Amen. E vogliamo leggere la parola del Signore come è contenuta nel Libro degli Atti al capitolo 2, versetti 37-47. Poi Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e sensibilità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. E ancora dal Libro degli Efesini al Capitolo 2, i versetti da 19 a 22. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini del Santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei profeti e sento Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Fin qui la parola che per fede noi diciamo parola di Dio. Ecco sorelle e fratelli, in queste ultime settimane, in tutto il nostro territorio nazionale, si sono svolte le conferenze distrettuali e uno degli argomenti che hanno trovato più dibattito è sicuramente quella che chiamiamo vita delle chiese. Alcuni membri affrontano ormai questo tema con molta sicurezza e speranza, altri un po' sottovoce e altri infine anche con una notevole dose di amarezza. Però il testo che ci viene suggerito questa mattina dal nostro comune lezionario Un giorno una parola, ci trasmette il confine o perlomeno ci delinea, ecco diremo, come debba articolarsi la vita all'interno di una comunità di credenti. Pietro sollecita in questo libro degli atti i fratelli a comportarsi in modo uniforme attorno alla parola. Parola che li chiamava e li convinceva alla comunione fraterna, alla celebrazione della Santa Cena per ricordare il sacrificio di Cristo e la sua resurrezione, proprio perché fosse vivente, presente in mezzo a loro, ma terzo elemento di tutta questa disamina era la preghiera. Preghiera che diventa collante tra insegnamento e servizio. Preghiera che diventa dialogo tra pari e con Dio in un legame inscindibile d'amore. Ecco, la configurazione delle prime comunità ci è stata anche così insegnata, raccontata negli anni di studio. Ma è molto spesso ci diciamo quanto improponibile sia oggi lo stesso quadro. Ma siamo poi così sicuri che sia veramente improponibili. Certo, il nostro essere donne e uomini inseriti in una comunità, ma soprattutto in una società, che ci impone stili di vita, protagonismo individuale, affermazione del personale di ciascuno di noi, affermazione del mio solo benessere personale, certe volte non riescono a trovare sintonia col testo biblico. Eppure, se accettassimo l'intervento dello Spirito Santo nelle nostre vite, potremmo anche esprimere e condividere nuovi modelli di comportamento, una diversa comunità fondata e costruita sull'amore di Dio, che ci porterebbe ad essere appieno cittadini di una nuova società. Certo, tempi, legami, spazi sono diversi da quanto ci ha illustrato il Libro degli Atti. Certo, non possiamo vivere insieme. Ciascuno di noi ha il suo lavoro, sempre che sia riuscito a trovarlo. Ciascuno ha la sua casa, i suoi parenti, le sue relazioni. E ciascuno, spesso e volentieri, quando è magari seduto in chiesa durante un'assemblea, magari non gli dice, però pensa. Perché queste persone non restano nel loro paese? Perché devo pagare le bollette a uno che mi pare essere sfaticato? Perché devo pagare le contribuzioni? Non posso pagarle, o la Chiesa non può decidere di pagarle e di sopperire a tutte le necessità con l'otto per mille? Ecco, però, siamo così sicuri di non poterci ritagliare del tempo per frequentare il culto domenicale o almeno per frequentare una delle, sì, degli incontri che la nostra comunità così organizza, pubblicizza. Sicuramente approfondiremmo la nostra conoscenza biblica. Seconda domanda. Siamo così sicuri di non poter ritagliare del tempo per partecipare ad una delle nostre giornate comunitarie organizzate nell'anno ecclesiastico. Ecco, la consuetudine a chiamarla Agapi o Agapi forse ci ha reso disattenti al significato di questa parola. Agapi vuol dire pasto d'amore ed è proprio per questo che rompere il pane insieme vuol dire soprattutto ricordarci dell'ultima cena di Gesù e di commemorare il suo sacrificio. Forse non ce ne rendiamo più conto ma una comunità di sorelle e fratelli che si riunisce, mangiano insieme condividono ciò che è stato preparato discutono su un argomento proposto spesso sono a ben vedere un inizio di concretizzazione della presenza del Regno che viene. E siamo così sicuri di non poter dedicare un po' di tempo della nostra settimana ad una iniziativa della Diaconia Comunitaria al servizio, all'ascolto reciproco questa potrebbe essere una pratica per coniugare amore e grazia grazia che abbiamo ricevuto gratuitamente. E poi, ultima domanda siamo sicuri, così sicuri di non poter trovare del tempo per pregare insieme? Alcune persone che incontro mi chiedono di pregare per loro sì, non mi chiedono mai di pregare insieme a loro di solito è prega anche per me perché non sanno cosa dire a Dio e la risposta a questa domanda può essere una sola ferma, fermati ferma i tuoi pensieri ferma le tue mani e rivolgiti a Lui Lui è sempre disponibile ad aspettare è lì che ti aspetta e che tu gli chieda di ascoltarti preghiera e dialogo e parlare con Dio e Gesù ci ha lasciato le parole che sintetizzano le nostre necessità e le nostre richieste nel Padre nostro quindi noi diventiamo concittadini del Suo Regno proprio per l'azione dello Spirito Santo che è azione di Dio nel nostro riconoscimento del Suo patto d'amore e di grazia rinnovato con la morte e la resurrezione di Gesù Amen Gli amassi o mio Signor quando ancora è oscura la terra che appare del verbo tuo d'amore e al fondo riversava su tutta la natura il sol calore del dito con la sua luce pura d'immenso e eterno amore Dio amassio, mio Signor Dio amassio, mio Signor quando ho preso straziato un corpo di Gesù divinire e la sua torno che per strapparmi al mosso del peccato il Santo il Santo tuo figuro di croce e pulmonato d'immenso eterno amore di amassio, mio Signor vogliamo ora riunirci per la preghiera di intercessione Dio nostro prima di separarci ti preghiamo per coloro che fra noi stentano a riconoscere i tuoi benefici i segni del tuo amore per quelli che sono e si sentono più soli per quelli che non trovano un lavoro o che lo hanno trovato ma non ne sono assolutamente appagati per i malati e per quelli che sono in ansia per i loro malati tu sei il Dio il padre di tutti noi e tutti ci unisci nel tuo amore e dovunque attorno a noi si offrono occasioni per condividere questo amore fa che sappiamo coglierli ti preghiamo per tutte le donne e le bambine che oggi in ogni angolo della terra vengono oltraggiate offese umiliate ti preghiamo per le vittime del bullismo e dei soprusi di chi crede di dover o poter dettare i confini della cosiddetta normalità ti preghiamo per le popolazioni che soffrono a causa di guerre siccità e ti preghiamo anche per questo nostro paese signore per l'Europa e il mondo prendi per mano e illumina i nostri governi resta con noi tienici con te lo hai già fatto in Gesù Cristo continua a farlo e noi continuiamo la nostra preghiera con le parole del Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà in terra come in cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori non esporci alla tentazione ma liberaci dal male tu è il regno la potenza e la gloria dei secoli dei secoli Amen Regno di pace e di justicia no odio per questo che il cielo sostenga cuare per il parente locato Si contempla la tua miseria eterna, mentre ne sale il triste figlio al Ciel. Cielo disfrazio nel suo cuore offere, al suo maestro più dovere fede. Sì, parla, s'ampara e nulla venta, che non sa bocca con traspare al mar. Del avversario la potenza aumenta, che non basta di confurre mortal. Cielo disfrazio nel suo cuore offere, al suo maestro più dovere fede. Cielo disfrazio nel suo maestro più dovere fede. Vogliamo ora riunirci nella benedizione? Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno, secondo questa regola, siano pace e misericordia. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico della Chiesa Valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla predicatrice locale Sandra Rizzi.